Amici, proseguiamo Super Mario 64 con le guide, quindi proseguiamo, prima no, una cosa, la stella sereta di questo livello, no, dove cazzo sto andando, ok, ok, ce n'è una, e mai ci sarebbe arrivato, due nicchie quadate, una sinistra, ok, non è vero, non c'è niente qui, ah, io qui come cazzo, aspetta, no, ok, ah, sono andato in quella per la stella, aspetta, ok, devo semplicemente raccogliere le monete rosse, va bene, faccio volentieri, volevo prima l'altra, però va bene, c'è un caldo infernale e ho una camicia, cazzo, ho una camicia, non può essere già rifatto il momento di aprire la finestra, ma è il 21 marato, qualcuno fermi il supriscaldamento globale, l'amor di dio, e niente, ecco, in questo periodo ho una insensata voglia di reto gaming, però non con opere di questo calibre qua, tipo, mettermi lì a emulare cose, perché mi sto rendendo conto che gioco tanto, gioco a cazzo, però, in verità, mi piace, non voglio cambiare, però, cazzo, mi mancano veramente tante, tante pelle, cioè, è la prima volta che io gioco, un gioco importante come Mario 64, eh, ce ne sono tante altre, di saghe che mi mancano, e niente, ma anche di giochi importanti, in generale, di perle nascoste, tipo The Suffering, tipo Obscure, eh, proprio PS2, intendo, eh, quindi niente, un po' vuole dire tuo game, si, sto chiacchierando, ok, stella segreta nel castello, bene, eh, qui però, ok, bene, 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 ora, quarto livello, quindi, ti prego, eh, starvi di qua, non aveva, bugia, era, qui, poi anche per DS, proprio per Nintendo 64, cioè, io ho una voglia, insensata, di giocarmi con Curse Bad Fury, non so, eh, poi, devo rifarmi questa, oh no, è stata il, la, 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 la fonte principale delle mie bestemme qualche video fa, va bene, Ok, vai, è una Gaia, ok, ho fatto una cazzata, ok, ho fatto una cazzata, ok, Ok, eh, lo sapevo io, madonna, meno male che ho un po' di vita, meno male davvero che ho un po' di vita, Chiunque abbia pensato questa gara, questa cosa, senza muri laterali o altro, veramente deve aver sofferto di bullismo da bambino, perché se no, non mi spiego, perché vendicarsi in questa maniera, sul genere umano, io non me lo spiego, Sì, ma cazzo, ma, se mi spingi pure, Ok, no, niente, non ce la fa, l'ultima volta che ci provo, l'ultima volta, poi, va a fanculo, mi dedico ad altro, Poi mi dedico ad altro, perché ho una vita, e, ok, Brodo Ok Ok Vediamo che poi lui spinge, quindi Ora, non la posso fare nemmeno Fai frenando troppo No, basta, basta Non ce la faccio più Basta Faccio altro Allora Quindi Non Si sta spendendo la tv Ok, tragedia Quinta stella Le altre per ora Quella del pinguino l'abbiamo fatta Mancherebbero le cose rosse Ma Prendiamolo Allora, le monete rosse sono più o meno raggiungibili In chiama Poi c'è la PC Senna D'Avila Ok Allora, ricordatevi che una è nel costolone Che cazzo lì? Nel costolone attaccato Ho una versione più bassa la piattaforma Vabbè, minchia Sono più o meno facilmente raggiungibili Quindi mi hai detto tre cose in arabo In arabo Ed è sicuro che ne ho già lasciate un paio Proprio sicuro, eh? Ok Ok Allora, una è qui Due Poi Questa ha la vita Bene, prendila Prendila assolutamente Poi Bisogna Chiede Waffanculo No, ma bisogna chiede waffanculo Ok 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 Ho temuto per la mia vita Pinguino Pinguino Incazzato Via Quattro Cinque Sì, ma Secondo me ne ho lasciato un paio Ok 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 Oh, cazzo È lì Ok È vero bene E' la scatora.. Sì.. 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 Ma.. Er.. 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 non ok 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 non ciò mi mette si qui Tipo qua questa cosa sblocca, buono, e due le ho, due le ho, poi ok, adesso però è ok, 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 non vedo bene, quindi tocco gli alberi, non si sa mai io tocco gli alberi, ora, grande, ma quasi, quasi riproverei il cazzo, non riproverei il cazzo, ok, vai, vabbè, ora sei stonso, no, ecco la gente stonso, ok, 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 come è, qui, all'epasso io cazzo, ok, ne, hop, è sicuro, ho scontato, Ho temuto tanto. Cinque, sei. Quattro. Scusami, la... In realtà è qua vicino. Non è vero? Aspetta... Non è vero? Non è vero? Non è vero? Non è vero? Puttana! Ok. Ok. Qui cosa abbiamo? No. Panico. Ehm... No. Scusami. 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 Parte che mi togli decisamente troppo. Ah, ma posso andare avanti all'infinito? Ok. 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 Allora. No, volevo fare il doppio rimbalzo. Ehm... Allora. Allora. No. 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 Non ci arriva. Allora. Allora. Piano. Il cartello, il cartello, il cartello, il cartello. Il cartello. Ok. Ok. ok ma questa taglia l'andai ma io se io ti faccio perché questo non è un muro non lo conta come muro scusami io come cazzo dove mai fallo aspetta non ho un'idea ok vediamo no è follia come cazzo dovei farcela gesù cristo che cos'è 4 super mario 64 jump star no era star 5 no 6 ok ma adesso in insieme ci guarderemo il come funziona perché allora va bene e fin qua ci sono anch'io come l'ha fatto lui prego come cazzo si vede guardate qua si vede così bene qui fa casino va bene insomma ok io ho l'audio mio eh non come fa aspetta eh ah allora vaffanculo così si che ci sono fermi allora è così che devo fare credo almeno no non ti ho detto di fare questo aspetta eh credo perché continuiamo a guardare ti va di mostrarmelo ok va bene scusa a cosa è diverso è un pelo diverso eh però va ma ma no 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 ok Ne mancano tre Aspettate Non è che ci sono Ok C'è prova da fare con la palla di neve Ok Allora Tanto qui c'è una stella Da Qui c'è una stella da qualche parte che non sto vedendo È ovvio Ok Una stella Sì, pardon Una moneta rossa Allora Una nel costo Che cazzo vuol dire il costo L'ora è attaccato Aspetta Ti prego non dimmi che è quella che penso io Allora c'è una lì E va bene C'è una qua sotto magari Tipo Sarà qui dietro Ok Allora Non è qui dietro Non è qui dietro Allora Ce n'è una qui È fin qua Niente da dire Anzi facciamo questa Dai Ok Ma non succede nulla Non è qui Non succede niente Aiuto Dai Ok Vaffanculo Ok 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 Ce ne sono altre qui Quattro va bene Cinque Quattro e sei E sette con quell'altra C'è una che mi manca Stiamo Ok Ok Io non vorrei che ce ne fosse una Tipo qua Per questo serve la stronti Beh Beh Non è qui Aspetta Posso arrivare Posso arrivare Ti vado Ti vado Ogni moneta è un pianto Ogni moneta è un pianto Cioè in 28 minuti Cazzo Vabbè dai Cinque Repento Gno pese Due Adesso Noi ci guardiamo Questa Cosa qui Che succede Ah Deve partire da qua Ok Ok Allora Allora ci sono Allora ci sono Big Penguin Rates Inculati Quello Quello me lo faccio O meglio Magari arrivo Di patta 30 litri Capito Poi lì lo faccio Ma no Perdonami Ma no Perdonami Ma no Io non ce l'ho Una Una paladina Una paladina Prova a fare Prova a fare il Penguin Ultimo tentativo Per questa Corsa di merda Ultimo eh Non è che la devo vincere Ho capito Non è che Non mi dai Il premio Partecipazione Ok 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 Ho vinto Il premio Il premio E' qua facculo adesso c'è Va bene, vai Vai, vai, vai Ti seguo io Facciamo questo Fida di puttana Uno vuole aiutare e viene umilato così Che è successo? E poi? Sto guardando la guida Cioè, la dovevo aiutare io? Perché lui è caduto? Prendatemi, e adesso? Per tornare indietro? Per tornare indietro devo morire Certo Ovvio Perché un tasto exit Però complicato, vero? Eh Il tasto exit era Era troppo Era a chiedere troppo Ancuna Sì, devo Aspettare Quindi io in tutto questo Dovrei anche fare qualcosa di precisione No, l'ho persa Cioè, capito Capito che adesso devo muovire di nuovo E la palla di neve non risponde Io devo muovire per forza L'ultimo tentativo L'ultimo tentativo Poi Vaffanculo Poi onestamente Vaffanculo Via Però Mario Ok Qua Tipo, no? Ti va di Va bene E anche questo è fatto Vabbè, continua Io Io non ho nessun cappello Però E non ho perso niente Proviamo a fare una cosa Allora, no Voi di qua Voi di qua Con le guide È un po' più semplice Questa cazzo Direte Prima di andare lì Andiamo Nella prossima parte Tu cosa cazzo sei? No, aspetta Non volevo in seguire un coniglio adesso Primi tutti Volevo andare qui Perché tecnicamente Todd dovrebbe regalarmene una Alle 20 stelle raggiunte Non alle 10 Come era successo E invece niente Va bene Ho preso tutte le stelle Di una Di quello Di livello innovato Panculo Di livello innovato E invece